Musica Ciao, siamo qui con Stefano dei Bocca de Rosa Ciao Allora, oggi avete fatto una bella vittoria avete giocato con sicurezza come vi siete trovati? Oggi ci siamo trovati bene per vedere il risultato facile sin dall'inizio abbiamo fatto tanti riporta con delle buone occasioni che sono entrate tutte per fortuna ci ha dato un po' di tranquillità per giocare In un secondo tempo di amministrazione comunque qualche volta girare la palla molto bene Esatto, ci abbiamo provato anche se poi col gioco delle sostituzioni non è sempre facile mantenere l'equilibrio quindi nelle volte ci trovavamo due rincuorrile per fortuna loro tanto sfortunati perché le loro occasioni non sono entrate neanche da sotto a porta quindi tutto sommato gravi noi ma anche tanto sfortunati Perfetto, grazie per essere stato con noi Ciao